Giornata nera ieri in Abruzzo, diversi incendi sparsi su tutta la regione hanno devastato ettari di territorio. Oltre la pineta d'Annunziana a Pescara, diversi incendi anche nel Terramano, nei pressi di Campli, Miano ed Altavilla, frazione del comune di Montorrio. Sandro Mariani, capogruppo di Abruzzo in Comune, denuncia un taglio importante da parte della regione di alcuni fondi destinati alla gestione degli incendi. Un taglio, come ha denunciato il CONAPO, il sindacato di Vigilfuoco, io ho ribadito che naturalmente va fatto anche chiarezza che questo taglio è stato fatto dall'Aggiunta Marsiglio, noi dell'opposizione abbiamo denunciato che ci sono minori risorse per la prevenzione e per la gestione degli incendi, poi ci sarebbe tanto altro da aggiungere perché io da tempo denuncio il fatto che bisogna intervenire cercando appunto di snellire le procedure anche per poter pulire i nostri boschi e poter fare anche altre azioni che evitano incendi. I danni sono stati ingenti e grazie anche all'intervento appunto dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, che ringrazio per il lavoro che fanno, sono riusciti a intervenire. Spesso purtroppo quelli che sono operativi, che noi chiamiamo eroi, subiscono anche un problema anche di gestione che c'è invece nei vertici perché questo è quello che evidenzierò nei prossimi giorni, che c'è spesso confusione, confusione che io ho registrato e naturalmente ben altra cosa sono gli uomini che stanno a terra o che guidano elicotteri e canader e quindi rischiano la vita, ben altra cosa invece l'organizzazione da parte dei vertici che al momento mi sembra abbastanza confusionaria spesso. Beh, innanzitutto c'è un problema culturale a base, non c'è più manutenzione di molti terreni, non c'è manutenzione dei boschi, come abbiamo visto nella pirata rannunziana ha pesato molto il fatto che non veniva più fatta manutenzione ormai da anni, purtroppo siamo in un periodo dove sembra che ci debba essere un iperprotezionismo totale verso certe riserve, verso i parchi, sembrando quasi che l'uomo non ne faccia parte o che deve essere cacciato via. È ciò che io ripeto da tempo, l'uomo fa parte di questo ecosistema delicato ed è impensabile ciò che qualche fanatico sostiene e porta avanti, cioè il fatto che praticamente non si può intervenire in alcun modo nel parco nel cercare di manutentare, così come nelle riserve, ricordiamolo, e quindi questa mancata manutenzione spessa porta a questo disastro. Io dico sempre, si impedisce qualche volta di tagliare e di ripulire qualche albero, poi vanno in fumo migliaia di ettari di bosco e nessuno parla, nessuno dice nulla.